Mi chiamo Versano Umberto, ho 67 anni, ho eseguito l'intervento per avere i denti fissi in 24 ore. Avevo una protese immobile che andava a destra e a sinistra, mi ballavano tutti i denti. Appena mi ho scoperto sono venuto subito qua. Durante l'intervento non ho sentito niente, è stata una cosa molto rapida e indolore. Lo consiglierei parecchio a tutti.